E il coronavirus arriva anche sui mercati delle criptovalute che ne risentono in questi giorni anche loro di questa fase di ribasso di panico sui mercati, anche ieri abbiamo visto di nuovo profondo rosso sui mercati, questa mattina cercano di rimbalzare ma i mercati delle criptovalute, bitcoin, ethereum e tutte le altcoin in generale, alcune anche molto pesanti, sono andate a perdere, quindi sono andate al ribasso ragazzi. Però c'è da dire una cosa, un po' di meno di quello che si ci aspettava, quindi sono strumenti difensivi, non difensivi, come sempre ragazzi, sono strumenti unici perché il mercato criptovalute è estremamente nuovo, innovativo, non è certamente un mercato difensivo come può essere loro ma da alcuni punti, da alcuni aspetti, per alcuni aspetti è sicuramente meno volatile in queste situazioni dei mercati gold. Sembra un paradosso ma così è ragazzi e così è stato, anche in questi giorni bitcoin è sceso ma nulla di allarmante, nulla di grave, lo vedremo oggi nel video di analisi ciclica e analisi tecnica che ho spostato al mercoledì perché lunedì c'era una situazione di estrema importanza da valutare ragazzi, quella relativa al crash dei mercati tradizionali. Situazioni che tra l'altro ci riporteremo anche nei prossimi video perché ragazzi vi farò vedere una serie di studi, una serie di analisi su alcuni stocks che sto cercando di tirar fuori, che possono essere estremamente allentanti, potranno essere estremamente allentanti nel prossimo futuro proprio grazie a questi ribassi. Quindi iscrivetevi ragazzi al canale anche per non perdervi questi nuovi video ma andiamo a guardare quello che sta facendo bitcoin nel mercato delle criptovalute e come hanno gestito questa fase di coronavirus panic selling, chiamiamola così. Allora grafico davanti a me di bitcoin, ragazzi vi parlo prima dell'analisi tecnica, poi vi dico l'analisi ciclica in sintesi insomma che ha rispettato un po' quelle che erano le mie aspettative, è un po' lungo questa fase di ribasso ragazzi e vi farò vedere anche perché. Però il linea di massima ce lo aspettavamo, lo sapevamo che eravamo in una fase di chiusura ciclica mensile. Andiamo a capire quello che sta facendo bitcoin, ragazzi la resistenza 10.500 nel breve periodo ha impattato, ha resistito molto e bitcoin non è riuscito a superarlo. Questo consisteva in sostanza nel massimo del precedente ciclo mensile, questo qui del vecchio trend ribassista, vedete quello fatto più o meno a ottobre ed è stato una fase di resistenza che il mercato non è riuscito a superare. Io mi aspettavo lo facesse, in realtà bitcoin ragazzi non ha dato questo sdlancio, nulla nulla di grave. Da un punto di vista di analisi tecnica sempre nella fase ribassista, questo trend che stiamo vedendo più pronunciato della precedente chiusura è esattamente coerente assolutamente con questa fase perché questo è un ciclo mensile secondario a questa parte che probabilmente è un ciclo annuale, ragazzi lo vedremo poi magari in qualche video di lungo periodo ma in realtà sembra molto comune questa view al momento. Quindi ci sta che questa fase di ribasso sia stata leggermente più pronunciata. Dove è andata a impattare? Al supporto di breve periodo 9.500 che non ha retto ma ha retto un po' vedete ragazzi, non è che non ha retto. Ha fatto un po' di resistenza, un po' di supporto, ma poi il mercato l'ha bucato perché semplicemente la fase ciclica è più importante in questo caso, anche dei supporti di resistenza di natura statica come questi qui. Ed è andato a impattare in questo momento sul supporto di medio periodo. Non vi nascondo che tra l'altro sul supporto di medio periodo c'era piazzata ragazzi una dei miei ordini relativi alla dollar cost average, l'esperimento che abbiamo portato avanti, anzi vi do una chicca leggera, lo vedete in questo momento qui. È l'esperimento dollar cost average con le tre strategie, la peggiore in questo caso, indovinate un po' qual è la dollar cost average ragazzi. Che faremo un video a tal proposito a momenti sulla valutazione di questa strategia perché vi farò vedere tutte le cose negative e gli svantaggi e i vantaggi di questo tipo di strategia. Questa qui è il lancio della moneta che è andata meglio della dollar cost average e questa ragazzi sono io che in questo momento ho fatto i miei piazzamenti, i miei acquisti, ho accumulato secondo le tecniche di trading, di analisi tecnica. L'ho fatto in real time davanti a voi in tutti questi video ragazzi quindi non c'è trucco, non c'è inganno e ho ancora una buona parte da accumulare ma anche se lo facessi a questi livelli avrei sicuramente un prezzo medio di carico più o meno simile alle altre strategie ragazzi. Quindi in sostanza in questo momento vinco io ma di poco ragazzi per quanto riguarda il prezzo medio di carico ma certamente ho rischiato molto di meno ma lo vedremo poi nel video dedicato alla dollar cost average. Torniamo a noi, la fase ciclica quindi a punto di vista di analisi tecnica vi ho spiegato questo è il supporto di medio periodo, questo è il supporto di arrivo, punto interrogativo. E ragazzi questo non lo sappiamo però in questo caso ci viene a confronto la nostra analisi ciclica che io ritengo molto importante in questo momento. Lo sapete che il mercato sta dando grandi segnali a punto di vista di analisi ciclica che intanto c'è questa media mobile a 50 periodi e a 200 periodi c'è stato il Golden Cross qui lo vedete. Il Golden Cross auspica una fase di grande rialzo dei mercati ragazzi siamo di nuovo alle solite prese di semplificazione di quelli che sono questi fenomeni. Allora ho ricevuto diverse mail in questa settimana una particolarmente rilevante relativa all'Halving di Bitcoin dove mi chiedeva se era scontato o meno dai mercati. La mia risposta è stata netta e sincera e faremo un video su questo discorso dell'Halving perché vi spiegherò perché nel video di venerdì scorso io ho detto che l'Halving è scontato dai mercati. È un problema di macroeconomia in questo caso di economia dei mercati finanziari. Chi non conosce la materia magari manca un po' di formazione relativamente a questa materia magari non l'ha studiata all'università o non ha avuto modo di apprendere in qualche modo non conosce dei meccanismi di creazione dei mercati. Ragazzi è per questo magari si pensa e si fa un po' scalpore su questo discorso dell'Halving chissà cosa fa chissà cosa non fa ragazzi. Comunque ne parleremo nel prossimo video quindi ragazzi su state attenti insomma tanti video belli freschi in questo momento insomma sul canale pronti di analisi. Allora ciclicamente anche questo golden cross ragazzi ancora una volta è un golden cross che indica che il mercato è passato da un trend ribassista che era questo qui a un trend laterale. Stop ok? Ok non c'è nient'altro che ci dice in questo momento. Io sono positivo sul mercato di bitcoin lo sapete lo dico da un po'. Ciò non toglie che sono una persona avversa al rischio quindi non mi vado a mettere su questo tipo di strumento ad occhi chiusi lo avete visto sapete come ragiono io sono un trader ragazzi non mi piace la scommessa se no andavo al casino anzi anche se no ragazzi di solito quando vado perdo sempre alla roulette ma porca miseria non si sa perché esce sempre l'altro colore. Allora andiamo a vedere analisi ciclica ragazzi scadenza del mensile vedete qui quello che avevamo impostato e così sta facendo questa giornata vedete questa giornata siamo a 33 giorni del precedente mensile giusto sbagliato. Allora se dovessi essere sincero ragazzi se chiudesse oggi con questa candela proprio disposto un po' per farvela vedere insomma meglio questa candela va a chiudere oggi il ciclo mensile e sembra prestampato da un libro cioè voi andate a vedere quella che è l'analisi classica del ciclo mensile e meglio di così non poteva fare. Cioè sembra quasi pilotato a questo punto insomma che dire sarebbe perfetto una hammer pulita bellissima che va a impattare su un supporto di medio periodo che va a impattare su una media mobile a 50 periodi che va a impattare su una close ciclica perfettamente equilibrata che è quella da 33 giorni poco poco più corta del precedente perché è più lunga la fase di bassista ragazzi sembra veramente vi assicuro come il manuale di giallo zafferano quando andate a fare la ricetta perché meglio di così non si poteva fare sembra una chiamata alle armi è esattamente in questo modo che dobbiamo andare a interpretare questa fase ora da qui tutti a salire sui mercati allora ragazzi tutti a salire sui mercati lo stanno già facendo perché il momento in cui si va a formare questo tipo di candela è esattamente quello il movimento cioè tutti i retails hanno visto questi segnali hanno visto il supporto hanno visto la media mobile hanno visto il rimbalzo adesso tutti sul treno che galoppa ci può stare non ve lo nascondo ci può assolutamente stare potrebbe essere assolutamente una bella fase di ingresso questa però io aspetto come sempre i miei segnali in questo momento il mercato sta cercando il suo minimo da un punto di vista ciclico ci siamo il tempo è maturo l'unica cosa che non mi ha convinto di questa fase ragazzi ve lo dirò in un altro video purtroppo lo so che dico sempre così ma ci sono un sacco di informazioni da fare e non posso fare un video di 8 ore ragazzi già quelli nuovi sono un po' più lunghi allora ve lo dirò nel prossimo video perché analizzeremo l'analisi di lungo periodo di bitcoin soprattutto sui cicli sul grafico settimanale mensile che non mi è piaciuto perché il grafico di febbraio me lo aspettavo più forte quindi ho da qui domani e dopodomani ragazzi che poi chiude il mese di febbraio ci fa due super candele e mi va a chiudere qua dentro allora è un miracolo va benissimo allora poi vedremo però insomma i direi mai con bitcoin ragazzi però al momento quello che reputo in questo momento è calma e sangue freddo siamo ancora fratti sul mercato vedremo i miei trend system quando inizieranno a entrare ma da un punto di vista di analisi ciclica siamo a scadenza quindi si aspetta un'inversione long di trend quando avverrà dove avverrà allora intanto bisogna guardare gli ultimi giorni chi ha fatto i miei corsi di formazione trovate i link ragazzi dei corsi di formazione in descrizione ricordatevi sempre che formarsi è fondamentale per stare sul mercato sopravvivere fare profitti non fate profitti senza formazione non mi dilungo su queste cose lo diciamo tutti quanti c'è un motivo ragazzi io mi formo sui mercati da oltre 20 anni ho letto di tutto e di più un giorno vi farò vedere la mia libreria immensa allora andate a guardare questa trend line solo se il mercato ci fa un'inversione di questo tipo indicherà la partenza di un nuovo ciclo mensile ovviamente poi ci sono i sottocicli ci sono tante cose tante analisi che noi facciamo anche in academy premium ragazzi quelli lì perché sono giornaliere andiamo a vedere quindi da punto di vista di bitcoin vi ho spiegato perfettamente che questa è una fase di creazione di un minimo non c'è una conferma da parte del RSI ma non mi spaventa questo perché sono RSI di lungo periodo siamo in fase neutrale nulla di che da quello che mi aspetto in questo momento sui mercati è una ripresa quindi un nuovo ciclo di partenza che faccia esattamente questo poi questo ciclo qui ragazzi avrà l'onere di portarsi qui su ma lo vedremo nella prossima analisi quella di lungo periodo andiamo invece a vedere quelle che sono le altcoin ethereum un'altra situazione molto pericolo molto rischio io vedo un po' di panico sulle altcoin ragazzi perché evidentemente non si comprende l'atteggiamento delle altcoin bene ancora una volta mi sono un po' arrabbiato devo dire la verità in questi ultimi giorni sono un po' arrabbiato per certe cose sono qui su youtube da due anni a dirvi determinate cose e si continua ostinatamente a fare determinati concetti determinati ragionamenti va bene ragazzi a parte questo allora le altcoin sono estremamente volatili sono molto più volatili quindi se avete visto ethereum fare questa cosa gigantesca un capolavoro poi è chiaro che nella parte ribassista lo vedete un po' più esposto ma non è neanche sceso tanto cioè non c'è granché da preoccuparsi ma non potete andare ad operare su un altcoin di questo periodo con il mini stop da 0,1% ragazzi perdete tutti i giorni cioè non è possibile perché questi sono mercati ad alta volatilità quindi se non ci sapete stare sopra lasciate stare fate una coin un pochettino più piccola se volete speculare sono molto buoni chiaramente per speculare perché fanno grandi passi di volatilità però dovete anche sapere quello che state facendo se dovete saperlo su bitcoin sulle altcoin non vi dico come dovete saperlo ragazzi dovete saperlo mille volte di più perché sono più difficili e invece si fa il contrario allora si fa quelli che sono i neofiti vanno quasi sempre a lavorare su altcoin sconosciute microcoin assurde dove la manipolazione sono all'ordine del giorno ragazzi ho capito però ok siamo qua su youtube scrivetevi nei commenti quello che pensate su questa cosa però ok su di morale ogni tanto ascoltiamo anche i consigli che si danno perché non lo si dà diciamo se non si ci crede veramente ecco io stesso credo in queste cose allora guardate un po' ethereum pericoloso è successo un casino ha fatto danni non ha fatto assolutamente niente ethereum ragazzi ha fatto la chiusura ciclica uguale a quella di bitcoin esatto ma anche meno perché se voi la guardate è stata molto più forte di bitcoin è stata estremamente insomma una chiusura ciclica si un po' c'è stata ma nulla di di anomalo ragazzi è passata dalla sua resistenza di meglio al suo supporto di breve periodo vi ho indicato questi valori dieci giorni fa quindi esattamente ha fatto questo movimento è anomalia non è anomalia non c'è assolutamente nessuna anomalia in un movimento del genere ragazzi potrebbe anche continuare un po' però dal punto di vista di analisi tecnica siamo nella perfezione totale di un movimento di quest altcoin vedete che qui non c'è niente questa è una fase di oscillazione di trading range la altcoin potrebbe stare qua dentro anche per un po di tempo qualche giorno qualche settimana perché no perché è una fase di oscillazione dopodiché si va ai massimi ok del 2019 ragazzi che siamo su un mercato fortemente rialzista fortemente indirizzato al rialzo ragionate un po' di lungo periodo non ragionate sempre nel breve la speculazione si fa nel breve assolutamente sì ma investimenti si fanno nel lungo periodo quindi se lo prendete per fare l'holding che ragionate sugli ingressi se lo prendete per fare speculazione questa non era una fase di acquisto di ethereum perché avevo indicato più e più volte che il mercato andava verso una cross ciclica importante come questa qui quando sarà possibile iniziare di nuovo a prendere termine speculare allora intanto supporto lo avete visto e qui chi di voi magari voleva fare la caduta libera poteva agire in questa in queste giornate io sconsiglio ovviamente soprattutto su questo tipo di strumenti se non avete il sangue freddo sapete che non do consigli finanziari però magari il mio punto di vista ve lo dico sempre allora da dove alla stessa cosa stessa diciamo concetto relativamente all'inversione di ethereum questa qui ok deve fare questo per dare un'indicazione di partenza di un nuovo ciclo mensile partenza che potrebbe avvenire assolutamente a momenti sono coordinate le altcoin e le bitcoin in questo momento chiaramente bitcoin ha recuperato molto anche sulla sua dominance altro video che dovrò fare non so quanti video dovrò fare ragazzi nei prossimi giorni con quello che sta succedendo però vedremo come fare quindi da un punto di vista ciclico c'è la scalenza io vi ho messo qui 37 giorni ma se chiude oggi ragazzi è nella perfezione vedete 33 identico a bitcoin sembrano pitturati uguali identici coordinati perfetto ma questo rialzo ragazzi ve lo siete già dimenticato guardate che ha fatto ethereum per me è stata una cosa meravigliosa vedere un rialzo di questo tipo quindi se siete holding su ethereum è state holding ragazzi perché qui il trend è virato al rialzo non ci sono segnali di inversione dove sarebbero i segnali di inversione ma molto più in basso sotto i 200 già diciamo ci sarebbe da preoccuparsi ma il mercato credo che ci darà un nuovo spunto un nuovo tentativo di andare a rompere la resistenza di medio periodo 280 prossimo ciclo mensile ne vedremo delle belle perché il prossimo ciclo mensile sarà quello che avrà il compito di andare a fare nuovi massimi ragazzi quindi stay tuned stay rock come si dice per noi musicisti binance un po peggio delle due allora binance andremo veloci perché il concetto è identico a quello che abbiamo visto su ethereum e bitcoin però in questo caso il ribasso è stato notevolmente più pronunciato intanto il supporto a breve periodo non ha retto minimamente e questo è strano si è un po diciamo è diventato un po molliccio questo supporto in breve periodo è andato a impattare invece su quest'area che sono la fase la zona delle medie mobili questo che diciamo questa fase che ha spinto binance ad arrivare in quest'area io la reputo una delle coin che in questo momento ha fatto una performance tra le peggiori in questa fase di ribasso tra le con forti diciamo ragazzi ecco per me bianca resta ancora una coin forte posizionarsi su questa coin intanto ci deve essere la solita inversione che vedete qui ok per indicare la partenza di un nuovo ciclo mensile questa fase di ribasso non mi è piaciuta quindi io metto il punto interrogativo in questo momento su questa alt coin che ha sofferto ha sofferto molto insieme anche ad altri ragazzi ci sarebbe da fare una super carrellata io su per esempio che ho sofferto molto nonostante era stata un alt coin molto molto profittevole bene allora vi ho dato tutte le informazioni per quanto riguarda questa fase di ribasso il coronavirus si è abbattuto sul mercato delle cripto valute ma molto di meno di quello del mercato per due motivi uno è di analisi fondamentale le cripto valute non sono collegate al sistema produttivo economico mondiale non è che si blocca il sistema economico se insomma il coronavirus arriva e impatta sulle alt coin certamente non impatta su bitcoin hanno dimostrato però una caratteristica difensiva sì ma non come loro e questo è anche giusto ragazzi perché sono speculative non sono strumenti stabili quindi nel momento in cui io devo andare a difendermi certamente andare su bitcoin insomma si lo faccio però se sono un istituzionale non vado su questi mercati così facilmente ragazzi magari ci metto su qualcosina ma niente di che vado ovviamente sull'oro o meglio ancora monetizzo e tengo dollari o euro questo è la soluzione migliore nelle fasi difensive però dobbiamo anche dire ammettere che bitcoin non si è comportato malissimo nella fase coronavirus mentre vediamo che magari i mercati old continuano a soffrire e non è detto che sia finito qui infatti sto analizzando da giorni ragazzi non mi nascondo tantissimo tutto in questi mercati perché quando arrivano queste grandi crisi arrivano anche ovviamente grandi opportunità io lo so che parlare così sembra cinico però in realtà ragazzi questo virus si spera che venga debellato nel modo che stiamo vedendo perché il meccanismo mondiale si è attivato in maniera estremamente prudenziale quindi complimenti anche a tutti per il modo di gestire le cose al di là di speculazione e quant'altro bene io vi ringrazio vi auguro una buona continuazione della settimana e noi ci rivediamo venerdì con un prossimo video ghiotto ghiotto vediamo se i mercati intanto avranno invertito e avranno iniziato un nuovo ciclo mensile ciao a tutti